Mentre noi facevamo i mille, i ris, queste cose qua, imitavo un personaggio che lui, vabbè, cipolla, che fa cipollezzo salvi, pure quando prendo il vestito da carabinieri, e vabbè, il pezzetto lo faccio al volo. Mamma mia, come sto? E vabbè, senza, e poi il personaggio che faccio adesso è la notizia dell'Ara, che in qualche parola io mi chiamo Corsa Guido, e Guido di Corsa da vent'anni. Sono sposato con Maria Fermata, che vorrei, dopo che si è sposata con me, Maria Fermata in Corsa. Insieme c'erano due figlie, la piccoletta, a casa se la comanda a chiedere per capo, invece quell'altra sempre al dietro secca secca, fare una linea, e quando stanno insieme, stanno a capolinea. Io quando ho fatto gli esami, mi hanno preso subito, perché capirai, prima mi hanno chiesto di vedere umano, e faccio vedere umano, le dico sul corpo umano, ma poi sul corpo umano, testaccio, via della luce, via delle porte coscure, bocca larga, via collina, boccea, piazza per la robonda, poi per le donne, c'è via del boschetto. Per noi uomini, questa via Cassio d'Oro, una volta, perché ormai, poi scendendo via colonne massime, via del so, colette, e così mi hanno preso subito. L'altro giorno, mentre portavo l'Avogus a Roma, che è così, era talmente pieno che ho guidato un piedio, mentre guidavo lo specchietto da una ragazzetta schiacciata di fa mamma tra un figlio, la madre fette che? E che ne so, riasca a girare la mamma? Grazie. Bravo!